Devo liberare Barabba o Gesù? Barabba! Barabba! Io sono innocente del sangue di questo giusto. Prendetevelo. Che le aquile imperiali siano innalzate sopra il Tempio. Solo Roma comanda in Palestina. La figura del governatore della Giudea tra le ribellioni di una popolazione ostia e il messaggio di pace e di amore portato da Gesù. Sei un re, tu lo hai detto. Per questo sono nato. Ponzio Pilato, giovedì alle 20.55.